Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo, mamma che lampadario brutto che abbiamo a casa, mamma mia E sono Maullo941 e oggi siamo tornati su House Flipper, signori miei Gioco in cui dobbiamo cercare di sistemare le case, i problemi delle persone nelle case e sistemare varie cose Detto questo ragazzoli, prima di partire dal video io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Per il supporto che state dando e darete a questa serie, fatemi sapere se volete altri episodi Vi ricordo di seguirmi sui miei social, intanto mi vado a lavare le mani E di seguirmi sui miei social, mi trovate come Maullo941, manco tanto sporco che manco mi si vede praticamente Sui social Facebook e Instagram trovate i link in descrizione per seguirmi E se volete sostenere il canale potete lasciare delle piccole donazioni se volete E trovate anche sotto il link per poterle fare tramite Paypal Detto questo ragazzoli, partiamo col video Allora ragazzoli, sono qui nel menu delle nostre mail che è arrivata e abbiamo tre lavori Ovvero termosifoni, un po' di ghiaia e arbusti e cambiamento amaranto Se non leggo male perché ho una schermata piccolissima Però raga, io ho visto una cosa carina, se riesco a uscire, perfetto Che noi oltre a fare questi lavori possiamo andare su Sbrozware e comprare una casa, signori Mi ha idea, restrutturare e vendere Quindi io direi che noi abbiamo un saldo di 30.000 euro, ok? La prima casa più bassa è questa qua da 26.000 36.000, 36 metri quadrati Casa abbandonata, dice Quasi il resto, quasi il stesso giardino So io che leggo male, c'è scritto quasi il stesso, no, c'è scritto quasi il stesso giardino Non ci interessa Casa bruciata, mamma mia che cosa è brutta E' 28, qui già saliamo troppo però Quindi andiamo con un qualcosa di semplice Andiamo con un qualcosa di semplice Compriamo questa casa, signori miei 26.000 Numero di piani 1 Acquistiamo, raga, chissene, 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 raga, chissene Dai, dai, mamma mia, è messa proprio male Facciamo qualcosa di nuovo, dai Acquista una casa, bella così Hai acquistato una nuova casa Vuoi andarci subito? Se preferisci non è... No, andiamoci subito Voglio avere paura già subito dell'acquisto che abbiamo fatto, raga A sinistra sono visibili le miniature degli acquirenti Ogni tanto commenteranno le due azioni Presto particolare attenzione a quelli in alto Più sono in alto, più sono disposti a pagare per questa casa Addì, mamma mia, come i corvi sul collo, praticamente Allora, signori miei Questa è la nostra bellissima casa Mamma mia, sembra la casa degli orrori Peggio del nostro ufficio, raga Peggio del nostro ufficio Mamma mia, non voglio sapere cosa c'è dentro Allora, stiamo calmi Cambio sangue e freddo Fuori il mocio Fuori il mocio Dove sta il mio mocio? Sistola Voglio il mocio Sistola? Cos'è la sistola? Perché? E che famo casi sta là? Ah, laviamo Sì, perché ho fatto dei miglioramenti, raga Avevo dei punti di miglioramento che li ho applicati Stiamo a bagnare tutta la casa Tra un po' Ci cade Mamma mia, guardate la muffa Guardate la muffa, è terribile Che arriva fino là sotto A posto Ma non, quindi non c'ho più il mocio C'ho la pompa d'acqua Praticamente, ottimo Posso lavare i vetri così? Lava la finestra Mamma mia, come non sopporto Lavare la finestra Allora, stiamo calmi Stiamo calmi, stiamo calmi Questa è tutta erbaccia, vero? Prendete il mutuo per spostare gli oggetti No, va bene E qui, 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 qui Dai, dai Dai, con l'innaffiatore pure qui Dai, pulisci, pulisci, zio Pulisci tutte cose Ok, bella così Avremo un poco di umidità in questa nuova casa Però non è un problema nostro Perché la dobbiamo vendere il più rapidamente possibile Vendi, vendi Sì, vendi, vendi Lava, lava Mi sono bloccato Lava, lava Lava tutto Lava, lava, lava Lava, laviamo tutto Deve splendere questa casa Ok, sembrerebbe una prima facciata sistemata Sistemata Entriamo dentro, ragazzi Copriamo assieme la casa E poi ci diamo Madò Tieni, però abbiamo preso lo scoprino d'accesso, ragazzi Ho notato lo scoprino d'accesso per pulire lo schifo del mondo Cosa c'è qui dentro? Ho paura Scarafaggi Se hai fobie di scarafaggi In opzione in generale Puoi cambiare scarafaggi e vetro rotto No, per fortuna non ho paura né degli scarafaggi né del vetro rotto Ma io direi di levarli velocemente il più velocemente possibile Gli scarafaggi non si devono così gli scarafaggi Come cazzo non si devono gli scarafaggi? Buttali tutti via Con l'aspirapolvere? Ma che stiamo a dire? Levo gli scarafaggi con l'aspirapolvere? No, raga, no, dai Non si possono levare gli scarafaggi con l'aspirapolvere Ma stiamo scherzando Ma ti finiscono tutti nel tubo Ma dai Poi come lo svuoti il tubo? Ma porca di una paletta ambria Ma che schifo, dai Io non ho mai levato gli scarafaggi Gli schiaccio al massimo gli scarafaggi Ma non utilizza l'aspirapolvere per levare gli scarafaggi Allora dai Facciamo un attimino di mente locale Questa porta è aperta o è chiusa? Ah, ok Qui c'è il bagno Che mi sa che ci hanno vomitato un sabato sera Che sono stati qui a Farbaldoria I vetri sono completamente fidusi Fidusi vuol dire sporchi, raga Fidusi in siciliano vuol dire sporchi Questo No, così lo solleviamo Dobbiamo pulirlo Va bene C'è qualche altra cosa Questo cartone di qua si può buttare Questa mobile Ma si, buttalo via Così facciamo pulizia Facciamo pulizia un po' generale Pulizia un po' generale Mamma mia comunque Che posto schifoso Perfetto Se non sbaglio dovrei avere la pistola Elimina robaccia Dai è così E questo l'abbiamo venduto Magari esistesse davvero questa pistola, raga Sarebbe una cosa bellissima Qua c'è qualcosa da salvare La cucina Se no me si può salvare Questi li buttiamo Ok Via così Veloce Veloce Bello Perfetto Anche la pentola Cortesemente si può vendere Buttare via la pentola Grazie Ci facciamo il servizio nuovo di piatti O meglio Solo farà chi compra questa bettola Che sta di Quello lì a sinistra Vorrei avere un posto Che ha detto? Vuole avere un posto zio Un attimo Pensa che il frigorifero sia leggermente irrecuperabile Ho paura anche ad aprirlo Quindi lo eliminiamo direttamente Non me l'ha nemmeno venduto, raga Me l'ha decisamente eliminato Questo lavandino fa schifo Non mi ci laverei mai nemmeno Questo bagno idem Qui ci manca lo specchio E la doccia La doccia non sembra messa male, raga La doccia è buona La doccia la teniamo Va bene Allora Le porte Le porte Porca miseria Le porte Via Eliminiamo anche le porte Via, raga Via, via, via No, questa forse era buona Vabbè, è brutta lo stesso Dobbiamo vendere e farci più soldi possibili, raga Di qua Si va nel giardino Ok, leviamo questa porta Via Bello così Tutto all'aperto Ma se mi vendo addirittura le finestre, raga Secondo voi evito di pulirle Non è una cosa migliore Quanto costano le finestre? Allora, mi devo informare quanto costano le finestre Facciamo così Io do intanto una pulita generale Con tutte le ragnatelle e cose varie Dopodiché ci vediamo qua Su pezza, raga Allora, ragazzi Li sta vedendo qua sul tablet Ma noi non abbiamo finestre praticamente Ci sono semplicemente porte Che costano un botto praticamente E direi di comprare quelle che costano Sono tutte uguali Perfetto Allora, compriamo queste bianche Mi piacciono queste bianche Sì Compra queste bianche Ah, compra tanto Comprane tante Zio Vogliamo le porte bianche Metti la Piazza la C'entra qua Ok Faccio così C'è troppo poco spazio Per mettere qui l'oggetto Come c'è troppo poco spazio Così Ok Una l'abbiamo piazzata Iniziamo a mettere le porte Raga Così questa casa inizia a prendere un attimo Le sembianze di Qualcosa che È realmente Una Una casa Almi Scusa la mia ignoranza Acquista ora Ok Dove serve il radiatore? Il radiatore serviva qui Perfetto Perfetto E già ce l'ha piazzato Poi Ne servivano altri Se non sbaglio Ne serviva un altro Qui Per Allora Ne prendo un altro Radiatore Acquistalo Piazzalo Ci vuole la patente Più interessante Ok signorini Le finestre sono andate Ora io direi di concentrarci Sulla pittura delle stanze Anche se comunque ci rimane ancora qua La porta di entrata Dobbiamo comprare la porta di entrata Raga ma la compriremo dopo Concentriamoci sulla pittura delle stanze Questa è blu Intanto a sinistra non parla nessuno Raga Gli acquirenti non stanno parlando Iniziamo da questa che è più piccolina Allora La facciamo lo stesso colore Raga Così non perdiamo Non perdiamo molto tempo Perderemo lo stesso tempo praticamente Però vediamo un attimino di non Perderci troppo A scegliere colori particolari Allora Questa è un colore verde Allora Dove stanno il baratto di pittura? Mi serve la pittura verde 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 Lime Questa mi piace Compra tanto Sì Compriamone almeno due barattoli Raga Verrà bella chiara Sì Così facciamo i colori belli 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 Chiari E basta Intingio il pennello in questo verde Lime Che non è forse quello che era qui Però va bene Lo rendiamo un attimino più colorato Dai Non è brutto come 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 colore Fa solamente schifo Però non è Non è proprio Proprio brutto brutto Dai Almeno stiamo dando Un po' più di Di colore A queste Ok ragazzoli E questo L'abbiamo No Porca miseria Ho andato Vittoria Troppo presto Mi stavo a dimenticare Il pezzo Sopra la porta Va bene Dai Dai che ce la facciamo Ok ragazzoli Questa mi sembra Che ora Sembra una reale stanza A parte questo pezzo Di ragnatela Qua Ma sto scordato Completamente Sto pezzo di ragnatela Dai Super mocio Leva questo Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Questa mi sembra Ora sia una stanza Normale Oh ma mi stai scordato Tutti i ragnateli Qua dentro Porca miseria Sto a facciate Tutte le ore Che apparentemente Ho pitturato Ora ragazzoli Andiamo avanti A pitturare la casa E ce ne avremo Un bel po' E io direi Questa stanza di qua La facciamo blu Come qui Praticamente Già la base La cucina La cucina La potremmo fare Bianca Non so se questa è pittura O si Ma la cucina La facciamo bianca Perché quella cucina Mi piace bianca E il bagno Lo lasciamo così com'è Quindi io Continuo a pitturare Tutto quanto All'ambaradan Ci saranno spezzoni Di video E poi ci vediamo Appena finisco Di pitturare tutto Raga Ok ragazzoli Dovrebbero rimanere Le ultime due Pennellate Molto veloci Ovvero Uno E due Ok E la cucina Dovrebbe anche questa Essere pitturata Mi fa strano Che quelli a sinistra Non stanno a parlare Raga Guardano e non parlano Questa cosa Mi fa molto paura Allora Ritorniamo con la manina Tanto carina E tanto coccolosa Qua nel bagno Mancano solamente Le cose da montare Infatti sono rosse Nella mappa Apriamo qui la porta Questa la stanza blu L'abbiamo fatta tutta blu È molto carina Forse potremmo farla Di due colori Però va bene così Va bene così E l'ultima cosa Per chiudere il video Raga Perché già sta durando Un sacco Vediamo se c'è Un bel portone D'entrata Ecco Tipo questo marrone Così Sì mi piace A questa ora Bello così Grosso Bello Imponente Con un No No Non me lo devi girare così Giralo 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 Sì lo mettiamo in mezzo alla casa Nel salotto lo mettiamo Che dici Giralo Ok Dovrebbe entrarci Perfettamente A filo Lì Ok signori miei La porta Ce l'abbiamo pure Ha preso un altro aspetto Questa casa Molto più carina Guardate Molto più carina E accogliente Allora ragazzoni Detto questo Vi ringrazio Ho guardato questa prima parte Di questo video La prossima settimana Metteremo i mobili All'interno della casa E vedremo Di venderla E recuperarci Qualche soldo E detto questo Vi ringrazio Per i like Per i suggerimenti Per il supporto Che state Chiedate A questa serie Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Domani Nelle prossime ore Nelle prossime giorni Non lo so Intanto Continuo a levare erba Raga Detto questo Ci vediamo sempre qui Bella raga Ciao Ciao